ciao a tutti da un po di tempo a questa parte è nata una collaborazione tra me e la fattoria mendoza di Maurizio Peltrami e oggi vi parlerò di un paio di pedali per iniziare a cui tengo molto e che sto utilizzando col mio set tradizionale che uso generalmente ossia paul smith castro 24 22 e marcia gcm 900 in questo caso sto utilizzando l'amplificatore nel canale assolutamente pulito come potete sentire senza alcun effetto inizierò a utilizzare il live stage questo bellissimo riverbero nella posizione di controllo e di reverbero a mezzogiorno che otteniamo già un bellissimo riverbero molto pulito un po' di tempo ecco lavorando sul controllo praticamente ampliamo la stanza nella sua lunghezza quindi se io diminuisco il controllo e anche il reverbero praticamente ottengo un reverbero più lontano con più presenza del suono però sotto rimane sempre come si può sentire ritorniamo alla posizione del mezzogiorno diciamo con il controllo invece aumentiamo il reverbero al massimo per ottenere un effetto quasi caverna ecco se vogliamo aumentare ulteriormente apriamo ancora di più la stanza cioè ingrandiamo l'ambiente eccolo qua al massimo ecco quindi un reverbero veramente molto cristallino e che mi piace molto perché è molto naturale